ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai farmaci veterinari ti leggerò i foglietti illustrativi dei farmaci veterinari più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo il farmaco veterinario canergy decra veterinari products srl ultimo aggiornamento 2 febbraio 2023 a cosa serve confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione principio attivo indicazioni posologia avvertenze a cosa serve canergy è un medicinale veterinario a base del principio attivo propendofillina appartenente alla categoria degli vasodilatatori periferici e nello specifico derivati pulinici è commercializzato in italia dall'azienda decra veterinari products srl canergy può essere prescritto con ricetta rrv ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile informazioni commerciali sulla prescrizione titolare levet b rb concessionario decra veterinari products srl ricetta rrv ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile principio attivo propendofillina gruppo terapeutico vasodilatatori periferici forma farmaceutica compressa confezioni canergy 100 mg 6 blister da 10 compresse per cani principio attivo ogni compressa contiene propendofillina 100 mg indicazioni per il miglioramento della circolazione sanguigna periferica e cerebrale per il miglioramento dell'apatia della letargia e del comportamento in generale nel cane posologia per garantire la somministrazione della dose corretta il peso corporeo dell'animale va determinato prima del trattamento la posologia di base è di 6 10 mg di propendofillina barra chilogrammi di peso corporeo al giorno divisi in due dosi come riportato di seguito compresse 100 mg peso chilogrammi 58 compresse mattino 51 barra 64 compresse pomeriggio 51 barra 64 compresse giornaliere 51 barra 62 dose giornaliera totale mg barra totale mg barra kg 6 e 25 10,0 peso chilogrammi 8 10 compresse mattino 51 barra 62 compresse pomeriggio 51 barra 64 compresse giornaliere 53 barra 64 dose giornaliera totale mg barra chilogrammi 7,5 9,4 peso peso chilogrammi 10 15 compresse mattino 51 barra 62 compresse pomeriggio 51 barra 62 compresse giornaliere 1 dose giornaliera totale mg barra chilogrammi 6,7 10,0 peso chilogrammi 15 25 compresse giornaliere 1 compresse pomeriggio 1 compresse giornaliere 1 compresse giornaliere 2 dose giornaliera totale mg barra chilogrammi 6,0 10,0 peso chilogrammi 25 33 compresse mattino 1 compresse pomeriggio 1 2 compresse giornaliera totale mg barra 6,0 10,0 peso chilogrammi 33 49 compresse mattino 151 barra 62 compresse pomeriggio 151 barra 62 compresse giornaliere 3 dose giornaliera totale mg barra chilogrammi 6,1 9,1 peso giornaliere 5 dose giornaliera totale 151 barra 62 compresse giornaliere 5 dose giornaliera totale mg barra chilogrammi 6,0 7,6 le compresse possono essere somministrate direttamente in bocca in fondo alla lingua del cane o mescolate ad un piccolo boccone di cibo almeno 30 minuti prima del pasto le compresse possono essere divise in due o quattro parti uguali per un dosaggio corretto appoggiare la compressa su una superficie piana con il lato che rega la linea d'incisione rivolto verso l'alto e il lato convesso rotondo rivolto verso il piano d'appoggio per rompere a metà premere con i pollici sui due lati della compressa per rompere in quattro premere con il pollice al centro della compressa avvertenze precauzioni speciali per l'impiego negli animali malattie specifiche per esempio malattie renali devono essere opportunamente trattate il trattamento dei cani che sono già in terapia per l'insufficienza cardiaca congestizia o per patologia bronchiale deve essere opportunamente valutato in caso di insufficienza renale la dose deve essere ridotta le compresse sono aromatizzate per evitare un'ingestione accidentale conservare le compresse fuori dalla portata degli animali fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato